La Guardia di Finanza di Roma ha evitato l'emissione sul mercato di circa 19 milioni di articoli contraffatti e non sicuri denunciate 15 persone all'autorità giudiziaria. I baschi verdi in 13 esercizi commerciali hanno trovato 125.000 tra occhiali da sole, scarpe e maglie, recanti marchi contraffatti di famose case produttrici ed oltre 18 milioni di accessori per la casa e la persona non conformi e quindi potenzialmente pericolosi per la salute. Accertamenti in corso per ricostruire la filiera distributiva e risalire ai produttori della merce sequestrata che se immessa sul mercato avrebbe fruttato proventi milionari. Grazie